Nuovo appuntamento per il ciclo di incontri settimanali della Confraternita del Suffragio, organizzati con il patrocinio dell'amministrazione comunale e del sostegno della Fondazione Carifano e BCC di Fano. Tema di giovedì scorso, il giornale di Fano, uscito 50 anni fa e pubblicato con il primo numero 0 esattamente il 6 gennaio 1974, in occasione della Festa della Befana, in attesa delle necessarie autorizzazioni. Interpreti e autori delle esperienze di quegli anni, Aldo Enzo Darvini, Carmen Giacomelli e Sauro Biagioni, che durante la serata hanno ripercorsi i momenti vissuti all'epoca con i circa 100 collaboratori, che si sono susseguiti negli anni. I numeri che sono usciti sono stati 68, abbiamo iniziato nel 1974, quindi proprio 50 anni fa, e siamo usciti inizialmente con dei numeri 0 perché aspettavamo l'autorizzazione del Tribunale, a me mi hanno contattato, io facevo l'ultimo anno di università, ma ha contattato Paolo Carboni, e credo di ricordare anche Marzio Filippetti che era il sindaco di allora, e mi proposero di fare il direttore del giornale. Poi ci siamo accorti che non ero iscritto all'arbo dei giornalisti, quindi ancora poi dovevo lavorare armi, che non sarei lavorato quell'anno lì, abbiamo scelto, abbiamo interpellato Gian Paolo Sodano, che era un giornalista di Roma, ha accettato di avere l'incarico a distanza, adesso diremo un incarico da remoto, e io fui nominato condirettore. Naturalmente con tutte le esperienze che potevo avere, perché non sapevo nemmeno cosa volesse dire, fare un giornale, però poi alla fine, insieme ai vari collaboratori che abbiamo trovato, abbiamo fatto, secondo me, un bel lavoro, è un bel ricordo per Fano, insomma. Sono passati tanti di collaboratori? Tantissimi, allora diciamo che una trentina erano quelli che gravitavano sempre nella redazione, tra l'altro la redazione era nel Palazzo Baccarini, che erano locali di Marzio Filippetti, che si aveva messo a disposizione, dove lì avevamo le rotative, e anche tutte le attrezzature per far uscire il giornale. Uscivamo la domenica mattina, quindi sabato sera per noi era una serata particolare, dove guardavamo, ricordavamo gli articoli, li impaginavamo e poi andavano in stampa. C'erano anche dei momenti di divertimento, perché poi oltre a fare queste cose, si mangiava anche insieme, naturalmente c'era il barberto davanti, che faceva la spuola tra noi per vedere qualche bottiglia di vino. Ecco, eravamo molto giovani, quindi ci stava anche la parte, diciamo, goliardica del giornale, insomma. Che ricordo ha di quei tempi? È una grande emozione nel rileggere quegli articoli, perché vivevamo insieme, in amicizia, avevamo diverse professioni, diversi mestieri, c'erano molti studenti, molte persone che scrivevano per la prima volta, infatti. Io, per esempio, incominciai allora a scrivere e poi piano piano diventai pubblicista, quindi era un modo per prepararsi anche alla vita, affrontando tanti temi. Tra i collaboratori anche il professor Bonetti. Il professor Bonetti partecipò molto alla vita di questo giornale, scelse uno pseudonimo al Cibiade e con questo pseudonimo parlava, scriveva spesso di politica nazionale, soprattutto di politica nazionale, in modo molto ironico, molto scherzoso. Direi che lui, che era un professore molto serio di storia e filosofia, che insegnò anche nell'università, eccetera, si divertiva tantissimo nello scrivere sul giornale di Fano. Coinvolti ed interessati dai temi trattati dal periodico, tra cui quelli sociali e politici, anche molti giovani che avevano in quegli anni desiderio di libertà, come ha ricordato nel suo intervento il dottor Massimo Agostini, uno dei tanti collaboratori dell'epoca presente alla serata.